Ciao, in questo video faremo un'estremability. Una ginnasta va in verticale sui piedi della compagna e vediamo chi riesce a fare tutta la pedana. Pronte? Partite voi! Giada con Debo. Non mi sa che è troppo facile, guarda che brave! Dai, 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 dai! Bravissime! Ce l'hanno fatta? Seconda coppia! Cate con Fede! Allora, è troppo facile! Bravissime! Terza coppia! Sì, dopo l'ho fatta e te l'anto! La Eli va in verticale sull'anto! Mickey con Emma Bravissime! Bravissime! Emma e Leti! Bravissime! Bravissime! Mh! ok perfetto allora tutte ce l'abbiamo fatta quindi adesso facciamo la sfida chi va più veloce vi mettete in verticale partiamo tutte insieme vediamo chi arriva prima di là via salire pronte via dai 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 e vincono Miki ed Emma secondo passo per Leti terzo posto per Kate bravissime ciao 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 Grazie.